Questa è Milano Rossonera, Jacopo Galvani al microfono, in studio, Elio Arienti, Diabola, Marco Maccanino, redattore di milanorossonera.it, per intervenire al telefono 0239656565 oppure via sms 392-8263-444 oppure se volete anche questa opzione una mail redazione chiocciola milaninterradio.tv Allora ragazzi ciao, salutate tutti, subito a parlare di El Sharawi, le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport, pronto a ritornare, non vuole lasciare il Milan e niente. Sì, è tornato a parlare dopo tanto tempo El Sharawi, sicuramente è mancato tanto a questa squadra soprattutto da quando è arrivato Sedorf perché continua a dire che con il modulo di Sedorf El Sharawi sarebbe il giocatore ideale perché è uno dei pochi a saper fare le due fasi, la fase offensiva e la fase difensiva e El Sharawi ha detto vuole riprendersi tutto, vuole riprendersi il tempo perso e oggi andrà a fare un consulto dal professor Van Dijk in Olanda per vedere l'evoluzione della frattura al metatarso e speriamo che possa rientrare a breve anche se si parla di un rientro in gruppo nei primi di aprile per poi essere a disposizione nel rush finale. È una situazione che va monitorata perché comunque il Sharawi è un giocatore molto importante per questa squadra e non averlo per il Milan è stato veramente una perdita molto molto grave. Non solo, ha parlato anche di rivolere, di puntare al mondiale. Sì, ma io sono d'accordo con lui nel senso che se torna e torna bene le sue chance se le può giocare però ragazzi se torna effettivamente ad aprile non ha molto tempo per mettersi in evidenza. Per il mondiale mi sa che è un po' tardi. Ebbene, per il mondiale è un po' tardi ma anche per il Milan perché va bene il rush finale tutto quel che si vuole ma insomma mancano alla fine del campionato o mancano 5-6 partite. Diciamo che l'ultimo mese può essere un'ottima palestra per la prossima stagione per vedere quanto veramente può rientrare in questo nuovo progetto di Seedorf e preparare il campo per una prossima stagione si spera da protagonisti in Italia e in Europa. L'Italia di Prandelli, con che schema giocherà? Ma questo non so, io penso che adottirà lo schema che è stato dato in questo momento il Milan un 4-2-3-1 oppure un 4-3-3, una cosa di questo tipo. Quindi con l'infortunio di Pepito Rossi e Sharawy potrebbe rientrare. Potrebbe anche rientrare, è vero. Secondo me i giochi sono fatti anche perché rientri primi di aprile, rientri in forma a fine aprile, i mondiali sono da giugno in poi e non penso che possa rientrare più nel giro azzurro anche perché il gruppo è quello, c'è Cerci, c'è Diamanti, c'è Balotelli, c'è Osvaldo... Ma Diamanti col passaggio in Cina, col trasferimento in Cina, non c'è giocato il mondiale? No, secondo me non cambia molto il Diamanti, teniamo conto che è un giocatore importante da mettere dietro alle punte. E soprattutto se l'è guadagnato il mondiale. E soprattutto se l'è guadagnato, certamente. Adesso poi non sono questi due mesi, tre mesi che giocheranno alla corte di Lippi che possono inficiare la sua partecipazione al mondiale. Attenzione, ci sono tanti ragazzi che comunque stanno facendo bene, tipo Florenzi che può giocare sia a centrocampo sia in Amanti. Quindi per Escherawi penso che in ottica mondiale i giochi siano fatti. A questo punto dovrebbe rientrare e prepararsi per la prossima stagione per ritornare ad essere protagonista in questa squadra perché il Milan ha molto bisogno di lui. E un ex Milan, Gennaro Gattuso, vicino alla Malesia, è stato contattato dalla squadra il Selangor perché lo vogliono come nuovo allenatore. Diciamo una notizia che fa piacere, Gattuso non ha perso fascino. Tu come lo vedi Elio Gattuso in Malesia? Due parole, no comment. Beh Gattuso era una tigre in campo quindi potrà diventare a tutti gli effetti la tigre della Malesia a questo punto. Ricordiamo comunque che tutte queste notizie qui le possiamo leggere sul nostro sito su milanorossonera.it Amici a casa, vi dà fastidio Leonardo che è stato contattato da Tohire ed è vicino a un ritorno in Italia? Sì decisamente molto. Leo è una persona che a me piace tantissimo. Una persona elegante da un certo punto di vista. è un grande, è un ex giocatore che capisce molto di calcio. Ha costato all'Inter, posso ragazzi dire che mi dà tanto 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 fastidio. Possiamo dire che Leonardo è un errore di Silvio Berlusconi? Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ma io invece non sono d'accordo Elio, a me questa situazione qui non fa né caldo né freddo come si suol dire. Perché dopo il tradimento di qualche... No, no, non mi farebbe né caldo né freddo se forse andasse alla Roma, se andasse alla Lazio, se andasse al Bayern Mone, se andasse all'Inter. Ragazzi non è che mi dà fastidio, c'è un prurito lungo la schiena che... Però Leonardo all'Inter vuol dire bei ricordi per il Milan, ricordiamo quel 3-0 che ha significato lo scudetto. Sì, sì, d'accordo, quello che vuoi. Però ripeto, a me Leonardo, io Leonardo ce l'ho nel cuore, ce l'ho nel mio cuore rosso-nero. Comunque io vorrei soffermarmi sulle prossime partite, perché della partita di Napoli non vorrei parlare... No, no, invece parliamo della partita di Napoli. Più che altro voglio sapere, anche i nostri ascoltatori, e ripeto i numeri per intervenire, 0239 65 65 65, sms 3928263444, oppure redazione et, o chiocciola come preferite, minaninterradio.tv. Voglio sapere, da voi, da Elio, com'è stata la prestazione di Tarabat e soprattutto della formazione generale. È stato così scandaloso gli errori ammessi che siano errori di SN e Abate? Ma, ragazzi, intanto partiamo alla Tarabat. Secondo me, io l'ho detto la settimana scorsa, lo ripeto questa settimana, e anche nelle prossime. Questo non è un campione, questo è un fuoriclasse. Il problema è che ha la testa di un ragazzino di 15 anni. Se cambia un attimino la testa, allora secondo me questo può diventare veramente un qualcosa in più per il Milan. Dopodiché, SN e Abate, ragazzi, SN non è in condizione di poter... Scusate, non è presentabile in questo momento. Ha voglia di dire se lo vedo bene in allenamento, questo e quella... Oggi ha dimostrato a Napoli, certo, contro una squadra importante, contro una squadra che ci ha messo sotto dal primo all'ultimo minuto. Non poteva fare molto di più, però oggi SN è impresentabile. Per quanto riguarda Abate, scusatemi ragazzi, ma io in questo Milan non ce lo vedo più. No, io invece sono... Quando ho letto la formazione di sabato contro il Napoli ho storto il naso, poi per comandata la partita l'ho storto ancora di più il naso, però nel post partita le dichiarazioni di Sietrofo mi hanno messo un po' più tranquillo, perché comunque le ha motivate e ha spiegato tutto per filo e per segno. Partiamo da Essiena a fianco a De Jong, partiamo dal presupposto che contro l'Atletico Madrid dovranno giocare Essiena e De Jong, quindi arrivare alla sfida contro l'Atletico Madrid senza averli mai provati insieme era un azzato troppo grosso, quindi Siedorf ha fatto bene a provarli uno accanto all'altro, in virtù anche delle squalifiche di Montolivo, Montare e dell'infortunio di Cristante che mancheranno tutti contro l'Atletico Madrid. Poi situazione Abbate, anche qui motivata da Siedorf, gli serviva uno che facesse le due fasi mancando Honda e con Kakà che non era disponibile, quindi la scelta di Abbate l'ha motivata così, magari poteva mettere più avanti Emanuelson ed Abbate terzino, però non è che cambiasse poi più di tanto. L'unica cosa che non mi ha trovato d'accordo è stato l'impiego di Robigno dietro la punta, perché Robigno non si è meritato il posto titolare nell'ultima partita e io non credo che Saponara lo meritasse meno di Robigno. Infatti ragazzi parliamo un attimino di questo Benedetto Saponara, ma questo cioè proprio Allegri non lo vedeva, Siedorf pare non vederlo, perché allora si è impuntato e l'ha voluto tenere qui? Non era meglio lasciarlo andare in una squadra magari di seconda fascia di Serie A oppure di prima fascia di Serie B e vederlo all'opera, tenerlo sotto controllo e poi la prossima stagione, se si dimostrava quello che io credo possa essere Saponara per il Milan, riportarselo a casa? Sicuramente mandarlo a giocare in prestito in un Bologna, in un Parma sarebbe stata una scelta saggia, però l'operazione è saltata da quando il Milan non è riuscito ad acquisire Biabiani a quel punto, non avendo più giocatori numericamente ha dovuto tenere Saponara perché comunque servivano quei giocatori lì in grado di coprire numericamente la rosa. Secondo me Saponara è un grandissimo talento, va sfruttato perché peggio di questo Robigno non può fare e poi secondo me ha meritato anche la possibilità di giocare nel Milan perché ha fatto un grandissimo campionato l'anno scorso di Serie B, ha trascinato l'Empoli a play-off e poi ha fatto un europeo su buonissimi standard, quindi io Saponara mi piacerebbe vederlo titolare venerdì contro il Bologna per poterlo poi giudicare anche in ottica prossima stagione ovviamente. Ci scrive un tifoso dell'Inter, siete una radio solare con il sole si sente, grazie. Possiamo dirlo, grazie. Lo ringraziamo, lo ringraziamo. Va bene. Grande polemica sulla fascia di capitano data a Max S. Quella sì, quella è una scelta che secondo me non ha trovato d'accordo nessun tifoso, nessun tifoso del Milan può essere d'accordo con quella scelta lì. Tu Elio su questo argomento non vuoi mettere bocca? Il polemico Elio! No, no, altro discorso, faccio la stessa cosa che ho fatto precedentemente, due parole, no comment. Sì, perché alla fine Max S non sta meritando la titolarità in questo Milan, non sta meritando nemmeno il campo, non vedo perché gli debba essere concessa una chance del genere, cioè avere la fascia di capitano del club più titolato al mondo e di uno dei club più gloriosi al mondo. Quindi secondo me quella... Ma di uno che non giocherebbe nemmeno in quarta divisione, ragazzi. Ma non scherzo, questo è stato portato al Milan semplicemente perché veniva via dalla Roma a parametro zero. Questo è il fatto, questo non vale la quarta divisione italiana. A quel punto, anziché darla a Max S, la fascia l'avrebbe meritata sicuramente molto di più del Sciglio. Come no? O addirittura a Balotelli. Esatto, una provocazione. Responsabilizzare Balotelli. E con la fascia di capitano sarebbe stata tanta roba anziché dare la fascia a Sedorf. Ma assolutamente sì, ma Balotelli a questo punto se lo vogliamo responsabilizzare, diamogli la fascia al capitano e vediamo cosa è in grado di fare. Assolutamente sì, sono d'accordissimo. Oggi dichiarazione di Tarabat che parla di Mario Balotelli in questi termini, dicendo che è fondamentale per il Milan, è un giocatore importante, stiamo lì vicino, sta vivendo un momento difficile. Le lacrime in panchina erano dovute al fatto che voleva vedere sua figlia e voleva regalargli un gol. E qui vorrei aprire una parentesi perché ho letto tantissima retorica su questa storia qui, frasi del tipo uno che guadagna 5 milioni di euro all'anno non può permettersi di piangere, allora cosa dovrebbero fare gli operai, cosa dovrebbero fare chi guadagna 800 euro al mese. Purtroppo piangono anche gli operai. Che discorsi sono. Era una famosa puntata, trasmissione di Drive-In, storico programma di cabaret degli anni Ottanta, anche i ricchi piangono, quindi anche Balotelli può piangere. Questo ragazzo qui ha la pressione addosso da quando è nato, in pratica ci sta un momento del genere, ci stanno le lacrime, ci sta a sfogare in quel modo una settimana comunque pesante. Si è anche dimostrato umano. Si, si è dimostrato umano e con quelle lacrime si è avvicinato anche a chi non era simpatico, perché comunque vedere un ragazzo in panchina piangere in quel modo lì fa diciamo tenerezza, dai. No, assolutamente sì, io mi sono ricreduto su Balotelli dopo averlo visto piangere in panchina per tutta la serie di motivazioni. Mi sono ricreduto, pensavo che avesse il cuore duro, l'animo di chi... Il fatto di essere a Napoli a pochi metri dalla figlia. Quindi l'animo di chi, insomma, gli passa tutto sopra e quant'altro, invece ragazzi, in panchina, questo è messo a piangere, non è riuscito almeno, così dicono le cronache, ad essere riuscito a segnare quel gol per poterlo dedicare alla figlia. È bellissimo, è bellissimo. Esatto, esatto. Comunque dal punto di vista prettamente tattico e tecnico, invece posso dirti che Balotelli molto probabilmente verrà provato sulla linea dei tre quartisti contro il Bologna perché mancando Sedorf vuole far riposare Kakà in ottica Atletico Madrid e quindi sposterebbe Balotelli nella linea dei tre quartisti per far sì che Pazzini possa giocare titolare come unica punta davanti e Balotelli a girarli attorno nei tre tre quartisti. È giusto insistere con la coppia dei Jong e Sien in vista Atletico Madrid? Eh, ragazzi che volete che vi dica? Io, se fossero in condizione, almeno se uno dei due, sto parlando di Sien, fossero in condizione, questi due garantiscono tanta quantità soprattutto davanti alla difesa. Sarebbe una bella diga davanti ad una difesa francamente chiunque ci metti dentro lì improponibile. Da Zapata, Amex, Esa, Bonea, sono tutti improponibili in questo momento. Anche se credo... Però scusami, il problema è che uno dei due, ripeto, e Sien non è in condizioni di, in questo momento, di scendere in campo. Anche se credo che contro il Bologna giocheranno Montolivo e Montari perché squalificati contro l'Atletico, e Sien e De Jong giocheranno in Champions, quindi davanti alla difesa contro il Bologna dovrebbero giocare Montolivo e Montari. E molto probabilmente, vi do la notizia, rientrerà Zapata dal primo minuto per preservare Bonera in ottica Champions. Parliamo di questo. So che non è una buona notizia per i tifosi, ma... No, no, ma io, scusate, io, secondo me, a questo punto anche Sien sta andando in confusione. Scusate, mi presenta Sien e De Jong davanti alla difesa contro il Napoli. Dopodiché giochiamo in casa col Bologna e perché Montolivo e Montari non giocheranno la Champions League, presenta loro due? Ma che discorso? Ragazzi, ma scusate, eh. A mio modo di vedere, Siedorf ha schierato insieme a Sien e De Jong per farli trovare l'amalgama giusta in busca dell'Atletico. E allora a maggior ragione li deve schierare. Anche perché il Napoli è una squadra che ha un gioco molto similare a quello degli spagnoli. Sì, ma a maggior ragione, se vuoi puntare su di loro in funzione Champions League, devi farli giocare anche contro il Bologna. Il discorso è che nel caso in cui si facesse male uno tra i Sien e De Jong poi arrivi a giocare in Champions senza centrocampisti, perché ti mancano praticamente tutti. Hai sempre Poli? Hai sempre Poli. Ecco, a proposito di Poli, un'idea che riporta Sky Sport, pare che Siedorf veda Poli sulla tre quarti di destra, che io trovo assurda. Più che vedere, secondo me, vuole sperimentare. Scusate, esterno di destra? Esatto, sulla tre quarti. Questa è un'idea che riporta Sky Sport, in particolare la riporta un amico Nosotti. Ragazzi, scusatemi, posso dire una cosa? Caro Massimiliano, ti rimpiango caldamente. È un'idea che è venuta fuori, non è che Siedorf, non è un virgolettato di Siedorf. No, 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 ma molto probabilmente verrà provato in questo ruolo qui, perché comunque davanti alla difesa, non ha, da quello che filtra da Milanello, non ha il fisico per stare nei due davanti alla difesa. Perché Siedorf... Ma trasformarlo in terzino destro come si fece con Abate è così assurdo? Siedorf ha le idee chiare in quell'ambito lì. Desciglio è il terzino destro e lo sarà per i prossimi anni. Quindi Desciglio vuole, infatti alla domanda, schiereresti Desciglio centrale, Siedorf ha detto, Desciglio è un terzino destro, farà il terzino destro a vita nel Milan. E quindi la corsia di destra è già occupata. Poli è un centrocampista, metterlo terzino destro non mi sembra una soluzione logica a questo punto. Sì, ma ragazzi scusate, scusate. Desciglio è un terzino destro, un esterno di destra e secondo me non può far centrale. Ma ragazzi, centrali abbiamo Zapata, Mexes, Bonera, Zaccardo, tutta quella robaccia... Lascia stare Rami, toglilo. Tutta quella robaccia lì, ma Desciglio non è meglio di questi qua? Almeno per questi quattro mesi da qui alla fine del campionato. Poi se in estate si comprerà qualcun altro, Poli tornerà a fare... Cioè Desciglio tornerà a fare quello che è abituato a fare, cioè il terzino di fascia. Desciglio è un terzino di fascia, anche se vi dirò una cosa che non vi troverà... Voi non starete d'accordo con me, sono sicuro. Però Desciglio le prestazioni migliori le ha fatte sull'auto di sinistra, nella passata stagione. Tipo il derby di ritorno, pareggiato 1-1 contro l'Inter, Desciglio era a sinistra. E le cose migliori secondo me Desciglio le ha fatte vedere da terzino a sinistro. Lui può fare destro e sinistro. Questa è la realtà dei fatti. Volendo può fare anche il centrale. Quindi proviamolo. Mancano quattro mesi alla fine della stagione. Proviamolo. Vediamo che cosa succede. Non c'è stata un'involuzione in questo giocatore? Ma direi di no. È ancora giovane, è difficile poter pensare che sia un'involuzione in questo giocatore. Adesso ha 20-19 anni, 20 anni, no? Non credo. Io invece da un po' di tempo a questa parte lo vedo involuto. Lo vedo... Gioca troppo timoroso, ha troppa paura di proporsi in avanti. Ha avuto qualche infortunio di troppo. Sì, sì, quello sicuro. Però c'è anche la squadra che non lo aiuta. Lui magari ha paura di lasciare sguarnita la sua zona da attaccare. Quindi si limita al compitino. Però un terzino delle qualità di De Scilio dovrebbe osare molto di più. Perché tecnicamente è uno dei più forti del Milan. E ripeto, in questi ultimi periodi l'ho visto troppo timido e troppo timoroso di proporsi in avanti. E anche in fase difensiva non è tutto questo portento che era per esempio una passata stagione. Fece una grandissima stagione con Allegri. Speriamo che possa migliorare via facendo, dai. Perché comunque il Milan ha bisogno di un De Scilio ad alti livelli. E De Scilio? Prestazioni da 7-8? Le avete viste, sentite? Io ultimamente vedo un De Scilio che non va oltre 5,5-6. Sì, ultimamente si è uniformato su standard mediocre come è il Milan di quest'anno. Ripeto. Si è uniformato la squadra, ragazzi. Questo è il fatto. Si è uniformato la squadra. Il Milan ha bisogno del miglior De Scilio. Ripeto, senza il miglior De Scilio il Milan perde tanto sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Quindi... Una breaking news arrivata da Milano Rossonera. Il Milan nella Via Reggio Cup ha passato il turno. Giocherà i quarti contro Levi Ingado, squadra colombiana. Quindi in bocca al lupo ai ragazzi di Filippo Enzaghi. Speriamo che possa arrivare. Ieri grande vittoria contro i croati del Rieca. Perdevamo 1-0. E nel secondo tempo grande rimonta. Un 3-1 con una doppietta di Benedicic. Che è un grande giocatore. Benedicic diventerà un grande giocatore. Se non sbaglio, tra l'altro, il Milan non vince la Via Reggio Cup da quando c'era in panchina Mauro Tassotti. Con la coppia Abate-Antonini. Esattamente. Allora, ci scrive anonimo... No, Marco, ecco, ho messo la firma in fondo. Ciao ragazzi, secondo voi di che cosa avrebbe bisogno il Milan per tornare ad essere il Milan? Di tutto. Ovvero una squadra che incute timore agli avversari già dal turno degli spogliatoi. Mi riferisco a tutti gli ambiti, dalla dirigenza ai giocatori. Cosa ci dobbiamo aspettare dal futuro? Niente, assolutamente niente. Perché tanto la proprietà non ha nessuna intenzione di spendere. Non ci si deve aspettare nulla. Questo è il Milan. Continueremo con i parametri zero che lo si voglia o no. Purtroppo mi dispiace ragazzi. Il mio cuore milanista piange, sa, lacrima, ne ha di tutte. Però purtroppo la realtà bisogna dirla. Questa è la realtà. A mio modo di vedere, il Milan ha bisogno per prima cosa di una pace dirigenziale. Perché non si può affrontare una stagione con una dirigenza che è in continua... con continui dissidi in dirigenza tra Barbara Berlusconi e Gagliana, ad esempio. La prima... Ci deve essere una stabilità societaria innanzitutto. Poi il resto viene di conseguenza. Dalla stabilità societaria in poi... Cioè, la cosa importante è quella. Marco, i tifosi vogliono vedere i soldi sul mercato, non la stabilità societaria. Che li vengono pure all'interno, ma che comprono i campioni. In quell'ambito lì... Ma poi, scusate, un secondo solo. Adesso si è costruita la casa del Milan. Adesso questa signorina, so tutto io, vuole costruire lo stadio nuovo e tutto quanto. Ma dentro quello stadio, che cavolo ci metti? Io sono convinto che con Sederf in panchina Berlusconi tornerà a spendere. Perché è un allenatore che ha voluto lui. E nel caso in cui il Milan facesse brutte figure, è Berlusconi a farle in prima persona. Questo è vero. Quindi, come ha sempre fatto Berlusconi, quando ha scelto lui gli allenatori, ha sempre speso. Quindi, io per la sessione estiva sono molto, molto ottimista. Però ragazzi, per la sessione estiva non c'è assolutamente nulla. Adesso vi interrompo, diamo la linea al canale e poi ritorneremo qua con Milano Rosso Nera solo su Radio Milan Inter. Questa è Radio Milan Inter, con il programma Milano Rosso Nera. Elio Arienti in studio, editore, no, redattore di Milano Rosso Nera, editorialista e tutto Elio. Elio è un mito vivente, la leggenda. Ah, poi non l'abbiamo mai detto Elio. Sì. Che tra un po' uscirà il tuo libro, da Krippina a Birsa. Ma non disiamo stupidazzini, per favore. Marco Maccagnino. Ciao a tutti. E Jacopo Galvani al microfono. E adesso abbiamo un grandissimo gradito ospite al telefono, Federico Bertone di Italia 7 Gold. Ciao Federico. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Federico. Allora Federico, qua sono tutti arrabbiati i tifosi. Mexes Capitano, una cosa indecente. Così dicono, riferiscono. In effetti, insomma, non è che proprio si meriti questa fascia, per quello che è il suo rendimento, forse anche per qualche atteggiamento che ha avuto. E non so, è un'altra scelta un po' così, un po' particolare di Stendorf. Un po' così, Federico. Non ho capito, scusa. Un po' così. Sì, 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 diciamo così. Federico, hai fiducia nel rientro di Esharawi o lo bocci già a priori il suo rientro? Che lui ha detto che vuole essere protagonista al mondiale e farà di tutto per andare al mondiale del Brasile. Ma mi sembra molto, molto difficile che possa tornare per fare un mondiale. Ho letto adesso la sua intervista, lui stesso dice che ci vorranno 4-6 settimane per ricominciare a fare la preparazione. Quindi, realisticamente parlando, tornerà in campo per metà aprile. Metà aprile e poi deve prendere il ritmo partita. Appunto, poi deve prendere il ritmo partita e praticamente il campionato è finito quando ritrova il ritmo partita. Poi, sai, di solito queste cose ti lasciano sempre qualche strascico, no? Quando hai quelle piccole ricadute, quei piccoli problemi. Quindi non lo so. Secondo me il mondiale non lo fa. Però se lo facesse vorrebbe dire che farebbe grandi cose con il Milan. Io la penso assolutissimamente come te, Federico. Anche perché a questo punto i giochi sono fatti. I convocati dovrebbero essere quelli, tipo quelli che si sono guadagnati il mondiale. C'è Erci, Diamanti, poi prima di Escerawi c'è Insigne, c'è Florenzi. Voglio dire, i giochi sembrano fatti a questo punto. Berardi può essere la convocazione a sorpresa della Nazionale di Prandelli? Ma io non ci credo. Ma guarda, se non torna Giuseppe Rossi, magari sì. Secondo me c'è sempre un punto di domanda, un posto riservato per Rossi. Se Rossi non ce la fa, a quel punto magari Berardi potrebbe essere un'idea. Anche se non so se sia pronto, sinceramente, per andare al Mondiale. E comunque Federico, Prandelli lo sta monitorando giorno dopo giorno. Quindi, comunque, un'altra cosa. Vorrei farti questa domanda. Ma secondo tu lo vedresti l'anno prossimo Escerawi ancora con la maglia rossonera? Cioè tu vuoi dire che l'anno prossimo potrebbe andare via? Non voglio dire nulla. Chiedo a te semplicemente se tu lo vedresti. Io non ce lo vedo. Allora, se guardiamo il modulo che sta facendo Tedors, forse il giocatore più ideale di tutti per interpretarlo è lui. Io credo però che ci siano delle perplessità su Escerawi sia fisiche che extracalcistiche. Perché purtroppo il ragazzo che era arrivato due anni fa con una certa testa, una certa mentalità, nell'ultimo anno si è perso. Quindi, secondo me, il Escerawi quest'estate potrebbe anche andare via. C'è però da tenere in considerazione un'altra cosa. Il Escerawi non vale più come un anno fa. Infatti. Quindi forse metterlo sul mercato adesso che vale meno non è la mossa migliore. Cioè forse è meglio recuperarlo prima. E Federico, hai ragione. Meglio recuperarlo. Ma se non lo recuperi, oggi magari prendi ancora 10-12 milioni. Quindi fra due anni forse lo devi dare via gratuitamente. Sì, è un rischio che ti devi accollare. È un rischio. Però lì, dipende da quanto credono in questo ragazzo, i mezzi tecnici ci sono. L'atteggiamento però deve cambiare. Cioè al di là dei suoi problemi fisici che lui ha avuto sono innegabili. Però insomma qualche voce arriva su Nel Escerawi non più proprio concentratissimo sull'allenamento, un po' meno affamato. E sono voci che ovviamente conoscono bene anche... Si è un po' montato la testa, dai. Si è un po' montato la testa. Come è normale che sia, credo. Perché lui si è trovato praticamente da essere una riserva del Milan appena arrivato dal Padova a esserne la star. La star assoluta che faceva le pubblicità in televisione. Diventato anche titolare nazionale. Ma non è che il Milan ha cercato di costruire un personaggio che non c'era effettivamente, un campione che non era ancora un campione. Scusa, Federico, secondo me è stato catapultato su un palcoscenico molto più grande di lui. Sì, ma per necessità. Perché era un Milan che aveva... Bisognava aspettare ancora un attimo allora. Eh però sai, in campo il rendimento era straordinario. Credo che neanche il Milan aspettasse un rendimento di questo tipo. Cioè, lui da settembre a dicembre, l'anno scorso, se non ricordo male, ha segnato 14 o 15 gol. Era effettivamente la star della squadra. Eh, non è che il Milan avesse bisogno di una star e l'unico che poteva esserlo in quel momento era il Sharawi e ha investito il Sharawi della star. Poi magari è arrivato Balotelli e non era più lui la star. Esatto. Sì, sicuramente è andata così. Milan aveva bisogno di dare ai tifosi una nuova stella, un personaggio pulito che andasse bene sia per il pubblico che per i media. solo che poi quando è arrivato Balotelli questo ragazzo per tanti motivi si è perso. È come se si fosse sciolta proprio la figura, l'alone che si era costruito. Federico, questo è un ragazzo che non ha carattere, diciamo la verità. E quindi non purtroppo, ecco perché io dico l'anno prossimo forse, io almeno non lo vedo più con la maniera del Milan, perché un ragazzo che non ha carattere non può giocare in una squadra di questo genere. Eh no, infatti è così. Per essere un protagonista nel Milan devi avere carattere. Federico, un pronostico sull'Atletico Madrid che ultimamente non riesce più a vincere, soprattutto non riesce più a segnare. Come la vedi questa partita? Secondo te questo Milan può fare tentare questo colpaccio o è spacciato? Guarda Jacopo, il colpaccio lo puoi anche tentare, però io andrei piano con l'entusiasmo sull'Atletico Madrid che non vince più, perché comunque è un Atletico Madrid che ha perso tre partite, due però erano contro il Real Madrid. Ah sì, probabilmente. Che è una squadra ingiocabile. E poi comunque ieri giocavano tutte le riserve a parte Cochie e Raul Garzia. Ieri hanno giocato 9-11 che di solito non giocano. Esattamente. Mancava Diego Costa, era una partita già segnata dal risultato dell'andata. Quindi è sicuramente un Atletico Madrid un po' più umano rispetto a una ventina di giorni fa. però resta superiore al Milan in tutto e per tutto. Comunque è giusto crederci. Sì, certo, è giusto crederci. Ci provi. Credo che sarà importantissima la partita d'andata, ma insomma questa è una banalità, nel senso che è evidente che sia così. La tieni aperta all'andata, poi al ritorno te la vai a giocare in 90 minuti. Ma diciamo anche una cosa, noi siamo talmente bravi a rivitalizzare le squadre che sono in un momento di appannamento che cosa vogliamo aspettarci ragazzi? Dai, cioè ma sì hai ragione Federico, la partita di andata, poi te la vai a giocare là, il ritorno, tutto il quale. Ragazzi ma la partita di andata, se becchiamo tre gol qui, non andiamo neanche più a fare figuracce alla Spagna. Beh almeno se ci si ritira è 3-0 tavolino. Se ci si ritira è 3-0 tavolino. Ma facciamo, un po' di ottimismo. No esatto, bisogna credere. Sì ma crediamoci finché vogliamo, l'ottimismo dura. Ma è la squadra che non ti incute ottimismo. Ragazzi dai. Il Milan in Champions è un'altra squadra. Sì però sono convinto che il Milan possa tirare fuori il coniglio dal cilindro in Champions. L'unica speranza è Caccai Balotelli. I Caccai Balotelli presentati a Napoli sono tragici. Ragazzi smettiamola con la musichetta del dottor Gagliani. Smettiamola, non è più così. Federico ti devo salutare. Grazie a voi ragazzi. Grazie a te. Ciao Federico. Ricordiamo per intervenire in diretta 0239 65 65 65 oppure sms 392 8263 444 redazione at minaninterradio.tv Marco Milan è interessato a Isco. Questa è un'intervista rilasciata oggi a calciomercato.com dove l'agente Arnuzzo nega assolutamente la possibilità. Ma infatti dice che è impossibile anche se Isco è fuori dal progetto Real Madrid in questo momento lo sta giocando Ancelotti non lo vede è impossibile che sparchi a Milan. Lungi da me mettere bocca sul lavoro dei colleghi però questa qui era una bufala a tutti gli effetti. Il Real Madrid ha pagato quasi 40 milioni di euro e ne è stato il giocatore è impensabile è impossibile immaginarlo in maglia rosso-nero neanche tra 15 anni a parametro zero. Ma dire di quello ragazzi cosa andiamo là a fare un'altra figurazza andiamo là a chiedere a Florentino Perez di prestarcelo per sei mesi e poi pagarlo nei prossimi otto anni ma dai con metà ingaggio pagato dal Real Madrid ma basta dai metà ingaggio poi gli danno qua mi sembra ormai il Milan adesso che non me ne vogliono non voglio offendere nessuno ma mi sembra l'allenatore nel pallone tre quarti di Edigno due terzi di Zico tra cinque anni arriva Maradona si capiva che comunque Isco al Milan era una voce non confermata perché comunque è un grandissimo giocatore emergente il Real ripeto ha speso circa 35-40 milioni e poi è un nazionale è un nazionale spagnolo cioè non vedo come possa arrivare al Milan il Milan che non ha 500 mila euro per prendere Tolò in prestito addirittura andiamo a parlare di Isco andiamo per gradi è vero che io so sempre dell'idea che è meglio comprare un grande giocatore all'anno che tra bidoni ma però ragazzi Isco non lo prendi quando devi ricostruire una scuola dalle fondamenta il tuo discorso non regge più perché è meglio prenderne come ha fatto la Juve quando dopo i settimi quando è salita dalla B che è arrivata a settima ha costruito per il futuro per l'arrivo di Conte acquistava tanti giocatori però man mano ha costruito le fondamenta se al Milan adesso metti un grande giocatore in mezzo in mezzo al campo in avanti e in difesa ti rimangono gli Zapata gli Bonera i Mexels e i Rami voglio dire non risolvi nulla ragazzi teniamo il centrocampo così com'è l'attacco così com'è e per favore ricostruiamo la difesa è quella che va ricostruita non altri giocatori in attacco lasciamo stare in attacco nel bene o nel male ce la caviamo sempre a centrocampo qualcosina di buono alla fine c'è dobbiamo ricostruire la difesa lì è una roba è scandalosa quella difesa lì assolutamente assolutamente io vorrei parlare un attimo per delle ultime sulla probabile formazione esatto volevo chiedervi questo visto che c'è questa doppia sfida Atletico Madrid e Bologna è giusto provare la squadra per l'Atletico Madrid contro il Bologna in casa o è giusto fare un turno perché se Edorf pare che abbia dei dubbi è diviso tra un turno e dei cambi tattici ma è quello che ho appena detto ragazzi se lui mi mette è perché lì cioè pare che l'unica certezza è Tarabat in questo momento è Kakà contro l'Atletico l'idea sua in conferenza stampa ha detto io però io devo mettere De Jong e De Sien in campo contro il Napoli per provarli in funzione Atletico Madrid ma prima dell'Atletico c'è il Bologna se col Bologna mi metti Montolivo e Montari perché con l'Atletico non ci sono allora perché mai messo E Sien e De Jong due partite prima cioè è un controsenso ragazzi io invece non sono d'accordo con voi secondo me siccome il campionato non ha più nulla da dire quindi anche in teoria con le secondarine il Milan dovrebbe battere il Bologna il Milan che ricordiamo tutti anche con le secondarine deve battere il Bologna il Milan di oggi non è in grado di battere nessuno con le secondarine però io personalmente preferisco far riposare Kakà per averlo in spolvero nella gara contro l'Atletico Madrid anziché spompare un giocatore che ha già dato tanto ad esempio io non sto parlando di Kakà Marco cerchiamo di capirci io non sto parlando di Kakà sto parlando della coppia di centrocampisti e Sien De Jong perché me la presenti contro il Napoli e non me la presenti più contro il Bologna ma forse perché il Napoli come ho detto prima ha un gioco molto più simile all'Atletico Madrid rispetto a quello che può avere il Bologna io sono dell'idea che questa squadra deve giocare anche contro il Bologna e mettere minuti però questo qui è un rischio perché con una squadra come il Bologna che verrà San Siro a difendersi tu non puoi scherare due giocatori di contenimento serve qualcuno che faccia gioco Montolivo deve giocare per forza contro il Bologna perché in una partita che tu devi proporre devi creare il gioco Montolivo è l'unico centrocampista che ti crea che ti può fare l'ultimo passaggio ti può lanciare in avanti cioè non ha senso schierare due centrocampisti di contenimento come Sien e De Jong contro il Bologna voglio fare un'altra cosa vuoi tenere a riposo che capi all'Atletico di Madrid benissimo Montolivo me lo metti a fare il trequartista con i Sien e De Jong davanti alla difesa è una delle ipotesi è Montolivo trequartista oppure Saponara è una delle ipotesi più gettonate l'unico punto fermo per la gara gli unici due punti fermi sembrano essere Honda che è rientrato che è guarito dalla gastroenterite e Tarab che verrà confermato dopo l'ottima prova di Napoli giocherà anche contro l'Atletico Tarab e Kakà sembrano i due unici sicuri del posto contro l'Atletico certo due su undici sono gli intoccabili poi penso che la difesa sia spinta il terzo trequartista oltre a Tarab e Kakà dovrebbe essere o Balotelli arretrato nella linea dei trequartisti oppure Emanuelson che passa a centrocampo con Abate che va a fare il terzino il terzino dietro perché comunque manca non avendo Honda intesserabile per la Champions il Milan ha veramente più che altro mi chiedo perché non è stato messo nella lista della Champions League e Saponara perché potevi fare tre cambi se tu dovevi scegliere tra Saponara e Tarab posto che dovevi inserire per forza Rami e De Sien la scelta era tra Saponara e Tarab e a sto punto credo che tra Saponara e Tarab siamo tutti d'accordo vero? sì assolutamente assolutamente d'accordo però ripeto io tu dici ma gli unici certi sicuri intoccabili sono Kakà e Tarab ragazzi io ricordo il Milan dei bei tempi il Milan dei grandi trionfi il Milan lì c'erano dieci intoccabili dieci intoccabili e forse ce n'era un forse e quel forse lo metto anche fra parentesi ce n'era uno che poteva entrare ed uscire purtroppo quei tempi sono finiti i tempi dei palloni d'oro in panchina tipo Papen tipo Savicevic ma purtroppo sono finiti quei tempi lì dobbiamo fare i conti con la dura realtà di questo momento il Milan adesso ha questi giocatori qui e deve lavorare con quello che ha poi ovviamente i tifosi sono nostalgici vogliono quel Milan lì ma quel Milan lì non ci potrà mai essere la dura realtà ragazzi io capisco che la realtà è dura che oggi non ci sono soldi non ci sono però fatemi capire perché il Milan continua ad andare sui parametri zero e l'Inter i nostri cugini comprano i Nanes a 20 milioni perché ma anche l'Inter c'è i suoi nei l'Inter gioca con Jonathan gioca con Nagatomo gioca con Rolando ho capito quelli perché non sono capaci di far mercato almeno quello che c'era prima è che finalmente ha deciso di cacciare non era capace di far mercato però Elio tu cosa preferiresti tra prendere un solo giocatore Hernanes a 20 milioni oppure prendere Rami Honda Tarap io preferisco sinceramente il mercato che ha fatto il Milan a gennaio no per niente assolutamente per niente quindi tu dici meglio un solo colpo meglio un solo colpo io sono per un colpo due all'anno fatti bene che costruisci la squadra in tre anni esattamente però io ripeto continuo con la venina cioè cambiare 11-12 elementi all'anno però attenzione però attenzione bisogna qui coinvolgere anche tutti i tifosi del Milan cioè la società deve andare dai tifosi e dire signori qui c'è poco noi dobbiamo fare al massimo un paio di colpi all'anno la squadra bisogna rifondarla o comunque ricostruirla ci vogliono tre anni per tre anni dovete pazientare bisogna dirlo ai tifosi però non si può fare una roba così impassando i tifosi si devono soltanto le carri riferiti il quinto posto il sesto posto è un obiettivo fattibile perché ricordiamo che con l'accesso in finale di Coppittale della Fiorentina si è liberato un posto per la UEFA quindi arrivando sesti basterà siamo ridotti a questo anche se ti dico la mia io tra arrivare sesto e qualificarsi ai preliminari di Europa League in pratica inizierà a giocare a fine luglio inizio agosto preferisco rimanere fuori dalla preferisco proprio non fare l'Europa l'anno prossimo essendoci in mondiale poi giocare il preliminare dovremo giocare senza i giocatori presenti nelle varie nazionali sono d'accordissimo con te però ricordiamoci una cosa che il Milan non può stare tanto tempo fuori dalle coppe anche anche dalla seconda coppa europea non dalla prima seconda però immaginiamoci un preliminare il 2 di agosto in Uzbekistan non la vedo tanto ragazzi lo so lo so però purtroppo queste cose bisogna anche anche farle in queste condizioni non puoi fare di più e allora ti devi adattare poi oddio se il Milan dovesse arrivare in Europa League io sono dell'idea che la giochi per vincere una volta arrivato la giochi per vincere e non fare come hanno fatto non fare come hanno fatto tutte le altre squadre italiane che la snobbano ed è proprio lì il punto cioè se tu o stai fuori giustamente come dicevi tu o stai fuori o se vai dentro devi andare dentro almeno almeno per mantenere alto il nome del del Milan e soprattutto almeno cercare di arrivare in semifinale almeno quello l'ideale sarebbe vincere l'Europa League che poi è l'unico trofeo che manca alla baccheca rossonera l'unica esperienza del Milan gli bastonate sui denti alle prime difficoltà lasciamo a lavorare e vediamo quello che saprà fare se non sarà in grado va beh ragazzi lo si prende lo si zonera solo il tempo ci potrà dire se Seedorf sarà all'altezza di questo Milan oppure non è all'altezza per adesso ha fatto due vittorie un pareggio una sconfitta sette punti in quattro partite il Milan era una squadra da ricostruire dalle fondamenta e lui sta provando a fare tutto in ottica prossima stagione poi ovviamente ricostruire ma soprattutto dargli un'altra mentalità esatto dargli una mentalità offensiva quella che predilige il presidente Berlusconi perché è proprio per quello che è stato chiamato Seedorf in panchina però ripeto il lavoro primario di Seedorf è quello di costruire per l'anno prossimo in cui si spera che il Milan possa ritornare competitivo in Italia vi do l'ultima notizia e poi dobbiamo chiudere Alex ha deciso di rinnovare col PSG e chiude di fatto le porte al Milan meno male adesso vi saluto vi lascio ancora in compagnia di Radio Milan Inter e vi ricordo i numeri di telefono per intervenire 0239 65 65 65 SMS 392 8263 444 redazione at milaninterradio.tv ciao a tutti ciao Marco ciao Elio ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.